io sparo, io sparo saluti uno proviega a naneggiarsi anche tu io no ti devo fare le cose del te a le vele pericolose ma che pericoloso sono le vele oreo ok, sono le spade ah no, no no, non so che vele siano ne ho ucciso uno e esploso un barile sì, se questi hanno da 9 ci vogliono regalarla boll vai da loro uno a bordo cazzo eh, abbiamo la qua, questo è il primo piano ok, l'ho ucciso, ma non ti resto no, se l'ho più affondato ok, ma non posso restare mano no, avrò un secondo no, avrò un secondo sì, se non hai no, no no, no